Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Rosaria Scaldigno, che ci aiuterà in questo brano che è un brano di Harry Styles e si chiama Sign of the Times. Vediamo gli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi, praticamente, che sono Fa maggiore, quindi se questo è dove ci sono i due tastini e il Do, questo è Fa, La, Do, Fa maggiore, e poi andando indietro il Re minore, quindi Fa, Mi, Re, Re, Fa, La, con il Re minore, e poi Do maggiore, Do, Mi, Sol, che conosciamo bene. E la canzone inizia praticamente con il ritornello e fa così. Bene, come abbiamo visto, abbiamo fatto quattro volte il Fa maggiore, quattro volte il Re minore, mentre il Do raddoppia, fa otto volte, otto movimenti. Andiamo avanti, gli accordi restano uguali anche per le altre parti. Ascoltiamo. Bene, a questo punto la canzone va avanti sempre così, fino ad arrivare alla parte finale, dove c'è un accordo in più che è il Si bemolle. Quindi questo è il Do, Si, Si bemolle, Re, Fa, forma il Si bemolle maggiore, e la parte fa così. Bene, come avete visto, il Do si divide in, come gli altri accordi, quattro volte Do e quattro volte Si bemolle. Poi la canzone finirà sempre con questi quattro accordi e rimarranno sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Rosaria per averci dato una mano. Grazie anche a te. E vi lascio, come sempre, in descrizione due link su come imparare il pianoforte, cioè gli accordi al pianoforte, il link su dove trovare il testo con gli accordi di questa canzone, ed in più la diteggiatura per entrambi le mani. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!